Ci siamo, siamo on Dopo tre ore di preparazione Esatto, voi vedete tutto così bene Anzi scusate, voi vi siete lì Io guardavo di là ma sono stordito Voi vedete tutte queste belle cose Ok? Tre ore Ah qua c'è la mia partita, ma io devo fare una nuova Non so di che stiamo parlando È il gioco della Mauve Sostanzialmente, scegliamo un personaggio Scegliamo un personaggio Tipo Quello bloccato Lover P Tu sei lover nu L'amore Che c'è l'amore praticamente È un universo dell'amore sostanzialmente C'è la macchina C'è appunto La forza più potente dell'universo L'amore L'amore, immagazzina l'amore E l'amore viene trasmesso a tutti i pianeti Che bellezza Grazie alla potenza del rettore ardor Gli esploratori potrebbero esplorare le stelle Unendo tutti gli abitanti della delassi Fico Sì Ci sta Ok Quindi praticamente l'amore è una sorta di fonte di energia Tutti erano sotto la protezione dell'ordinazione Io non lo leggo E facciamo una guardia al reattore Esattamente Poi ci sono gli stronzi di buono Ma il disastro era minuto ovviamente Era ovvio se no non c'era il gioco no? Mi sembrava giusto Io l'ho giocato proprio poco a poco Esplode tutto, muoiono tutti A fine del gioco Fini del gioco Esatto Questo è la matrice So so che servono i bacini Per essere le forze anti-amore E l'infiltrazione della nostra realtà Va bene Ok Sparano via Penso che dovremmo recuperare quelle in Esattamente Dobbiamo andare in giro Ancora spezzata La spazio temporale E il rettoriale fu ridotto in pezzi Gran peccato Ok Praticamente noi dobbiamo recuperare Eh beh ci sono i cosi brutti I nemici Spazio temporale sai Teletrasporti Ecco e l'hanno catturato Sostanzialmente dobbiamo salvare questi tizi E recuperare l'amore Ho capito Ora l'anti-amore si diffonde la grazia e il destino E questo spazio da me sono divisamente poco amore In effetti In effetti Ok Va bene Ok Adesso praticamente noi siamo Su questa astronave Ma è una specie di platform Meglio 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 È proprio un gioco di cooperazione Va bene Perché se non cooperiamo Moriamo male Di fido dell'amore Moriamo male subito Di fido dell'amore I strumenti sono di uso La fratta principale è andata Ma c'è la nave prototipo Non segue ancora l'energia Forse Però vogliamoci bene insomma Esatto che stiamo facendo la nave prototica è bloccata nel ventrico ovest il ventrico ha deciso qualcosa di segnale magari l'amore l'amore, esatto è solo aspettare è un'introduzione allarme, questo è il generale dei lovers sotto attacco ok, noi siamo i tizi ah, per saltare ok, scegliamo questa è una specie di tutorial inizialmente praticamente noi, vedi che sono le quattro torrette no, volevo leggere il nome del dottore, mi pare di aver letto orecchie e flosce, però va bene praticamente sostanzialmente, dove ci spostiamo possiamo attivare una torretta, ok, adesso sembra easy, sostanzialmente è easy ho sbagliato no, no, bisogna staccare le cose che tengono la cavola, le cose, le navi, capito vai in questa vai in quella così esattamente ah, questa sarebbe la navicella si, oh cazzo, scusa stavo guardando ferma stanno attaccando signora, spari spari, vada a sinistra ok, spari, spari muori ok quella mia è ancora pronta per volare una pronta per volare una pronta per volare una pronta per volare una pronta per volare scusi, l'ho già fatto ah bene signora, abbiamo già concluso noi siamo avanti noi ci amiamo no, non è caminata no, non è così che cos'è? spara no, no, stai calmo stai calmo stai calmo semplicemente devi sparare due bottoni cioè uno dovrebbe andare qua non so come cambia, cambia ok, apposta quello lì è il computer dello scudo se adesso andiamo allo scudo praticamente uno può usare lo scudo come protezione ti scudo io ti scudo però io penso a sparare esatto ora ok tu stai là ci penso io a no problem io proteggo tutto non c'è di io che fare mi devo girare devi continuare a muovere questo gioco sarebbe fighissimo in 4 secondo me infatti sarebbe una roba vero? secondo me aspetta corri 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 come se non ci fossero le mani apposta possiamo uscire siamo già abbastanza morosi ah adesso ci danno il timone lo scudo lo scudo il timone esatto ah quindi beh ah bisogna farli insieme adesso è ancora semplice nel senso dopo vedi ah bisogna farli insieme è tutto cop tutto cop tac c'è il motore il motore ci fa volare il problema è che se uno guida l'altro non può non può ah ma e si ho mollito i comandi senza mani hai capito hai capito va bene allora aspetta aspetta tu tu ok quello che deve essere a destra si è bloccato dei congeni spaziali potremmo sfondare sfondare ma l'amore no l'amore è anche sfondare ma non ancora non ancora non ci conosciamo ancora esatto hai tolto un po' di vita della nave si dobbiamo salvare il tizio tizioso muori aspetta aspetta no 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 aspetta ok mi stavo spostando vai vieni e lui e lui praticamente ah salgiamo i tizi e ci sblocca le zone hai capito la meccanica semplice è carino mi sembra quel giochino quello con l'ufo che acchiappavi le palline vabbè perché non mi ricordo come si chiama il gioco però aveva questa stessa meccanica con la camicella però tu acchiappavi le palline le mettevi erano devi salire aspetta aspetta che scendo scendi aspetta che è un casino è un casino ok scendo scendo con questo giocare da solo ciao hai sentito ciao questo qua è l'arma tipo segreta di dio ma scusa aspetta lo scudo oh mio dio cazzo è un'arma di istruzione di massa ma gira sempre in continuazione si continua a girare e tu decidi quando sparare si deve ricaricare poi la cosa figa che non vi voglio spoilerare la vediamo dopo va bene giustamente non la vuoi spoilerare lo stavo per dire il canone Yamato è molto potente ma deve essere ben sicurizzato giustamente bello mi piace che si chiama Yamato mi richiama oh cazzo 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 gira gira vai gira la ruota dovrei averlo ucciso dovresti aspetta che il cambio in postazione vai esatto è un casino lo so che è un casino lo so che è un casino ogni volta che cambio ecco il portale di uscita vogliamo coniglietti spaziali vabbè sacrificiamo i coniglietti spaziali per aprire le porte sostanzialmente quindi dobbiamo salvare questi tizi per poi andare quando ne ammazziamo cioè ne ammazziamo non lo liberiamo esatto e arrivano i nemici eh porca puttana e adesso io scappo addio aspetta me ne vado me ne vado arregato ciao sali salga signora morite tutti no no mi scherzo di sultana no no aspetta aspetta ok a posto a posto adesso lo acchiappo dai ciccio vada ok questo non so cos'è forse è la mappa si la minimappa la minimappa oh perfetto usatela per mappare mappiamo giustamente grazie grazie proprio ok si andiamo a vederlo ah si dai andiamo a vedere il segreto sta un po' ingombrandela si si eh ma adesso è diciamo tutto reloso quindi è un po' come si apre signora non c'è un segreto non si sa trappola 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 fai sparare la cosa gialla la cosa gialla aspetta però devo la temporizzo sparagli no guarda un disastro spara tutto uh i missili i missili i missili spagliato figlio della merda ok proteggo io ti proteggo io non proteggo niente non c'è più nessuno ce ne possiamo andare abbiamo avuto amore amore ce ne possiamo andare ok spero che si sia aperta la cosa spero anch'io teoria dava un cuoricino mi sembra eh si si eccolo eccolo sparagli cos'è sta roba una vita eh ah fantastico che sta là sotto ok ah io scusa eh non ho ancora preso bene la deve stare attenta come porcheggio eh lo so ma è la mappa che si che si muove eh si muove noi siamo sempre a fermi certo la relatività ciao alberto che ci segui sempre si esatto e non ho ancora la patente per questo ah e vedi tu per te si mi sembra sicurezza è andato a farsi banire ricordato che ho messo scudo può bloccare i proietti perchè perchè aspetta fammi usare lo scudo aspetta dove è lo scudo è qua sopra eh quello blu quello blu quello blu eh vai vada signora lo giri però ah è giusto eh volevi eh volevi eh eh volevi ah quello è quelle cose che trovi a mentire è tipo vita ah ok è amore scusa esatto non confondiamo ma è infinito questo scudo? eh voglio si è finito lo scudo però devi proteggere se no moriamo male moriamo male me lo sento eh volevi e io devo continuare a guardare il coso dove dove punta perchè aspetta gli vado addosso no no si con lo scudo non ci facciamo niente no non si rompe ma perché wow wow scapiamo 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 eh devi vedere tu ecco che cazzo ne abbiamo trovati 5 ma perchè sparano alcun baleni? idon no eh il potere della madre ma erano due vabbè eh due o più quelli di prima io salgo eh vado l'uscio è chiuso l'uscio aspetta che sparo qua aspetta aspetta voilà i missili ci mani i missili i missili della potenza no 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 sbagliato sbagliato scusi signora mica la confusione la confusione aspetta che vado io vado io vado io vado io vado io aspetta 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 è uno ci spingso io pa 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 ok in ritardo siamo ok io guida e tu guida che io vado in su spara questo vada veloce devo andare in teoria in su guarda la mappa ok forse ce la possiamo fare eh non è facilissimo no esatto ok arriviamo al cuore e io ce l'ho la patente e io no mi hanno dato vada verso il cuore piano che sono i toghi punti alla patente eh sbagliato vada 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 su 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 non è semplice dopo vedi diventa ancora peggio si sta risucchiando il cuore ci risucchia ci risucchia il potere della muove addio ciao 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 e beh penso che adesso ce l'hai fatta questo è il cielo è diventato instabile il tessuto spazio temporale si sta muovendo bene un po' di ago e filo esatto va bene adesso l'unica speranza dovrei quattro pezzi del reattore ardor uno di essi si trova nell'orsa maggiore puoi andare a indagare ma penso che andremo a indagare nel prossimo episodio esattamente quindi il prossimo episodio è una cosa terribile vabbè addio signori beh mi piace iscrivetevi pagina facebook instagram e telegram altre parole che finiscono per gram ciao e quindi ciao ciao